Ormai possiamo dire che chi dice donna dice dono. Dono d'amore, d'affetto, di compassione, di maternità, di empatia. Ma quanta strada e quanta sofferenza ha dovuto passare la donna per giungere a questi primi spiragli di giustizia e libertà? Ce lo spiega la Filapa, sezione di Brancaleone, con il convegno su Il coraggio e la forza delle donne calabresi presso la biblioteca comunale Cesare Pavese. Dottore De Angelis, quando la storia dell'evoluzione femminile si è inceppata, in quale periodo storico e per quali ragioni? Il periodo storico che si è inceppata soprattutto nel meridione o nel regno di Napoli, diciamo quando la Chiesa ha il sopravvento, perché la Chiesa tende a non far emergere soprattutto la donna, visto che oggi parliamo di donna. Quindi la donna veniva vista come il peccato dell'anima e a quell'epoca sia nel regno di Napoli sia in Spagna sappiamo che la Santa Inquisizione ancora accusava con tanta facilità. Tonino Nocera, cosa ci dice oggi la comunicazione sul grado di maturità, di consapevolezza rispetto alla questione di genere? Ma è una questione avanzata ma ancora in essere però, perché le leggi non sono sufficienti, è necessario un cambiamento di mentalità o se dire è necessario un cambiamento interiore dei singoli. Se noi pensiamo che per esempio nel 1862 Giamazzini nei doveri dell'uomo esaltava il ruolo della donna e ci guardiamo attorno è stata fatta tanta strada ma ancora tanta deve essere percorsa. Molto dipende da noi, molto dipende credo dall'educazione familiare. Tutti noi dimentichiamo che abbiamo avuto un contatto fondamentale con una donna da sempre, la nostra madre. Presidente, con l'iniziativa di oggi, il messaggio che si vuole mandare? Mi piace far passare questo messaggio che la festa della donna non è la festa fatta alla donna ma è la festa che ricorda a tutti che le donne hanno dei diritti e che i diritti sono uguali a quelli degli uomini. Quindi da questo punto di vista proprio la volontà è questa, mandare questo messaggio, anche il titolo del convegno, il coraggio è la forza delle donne calabresi appunto per fare un percorso storico e far capire a tutti come la volontà, quanto sia forte la volontà delle donne perché le donne manifestano questa forza proprio perché partono da una condizione di disagio e quindi devono lottare ancora di più, nulla gli è dovuto. E questo è il messaggio che voglio far passare. E soprattutto voglio che le nuove generazioni prendano consapevolezza di questa forza che oggi hanno e che devono far valere.